Piazza del Popolo, 25 giugno, pochi minuti all'inizio del concerto di Coca-Cola Festival Roma 2014 grandi nomi pronti a salire su questo palco enorme che andiamo a zoomare e a vedere da vicino eccolo, un palco enorme, vedete? già la gente, il pubblico si è accalcato al sotto per vedere più da vicino i loro beniamini la piazza però è ancora semi vuota, ingresso gratuito e ancora c'è la luce del giorno la giornata si è migliorata qui a Piazza del Popolo, è uscito il sole, non piove più parecchi turisti pure che passano e tra circa un'ora, circa 60 minuti anche meno, alle ore 20 è previsto l'inizio del concerto a Piazza del Popolo, che vedete ancora vuota nella parte posteriore qui c'è stato qualche settimana fa il comizio finale per le europee di Matteo Renzi è una piazza importante, una delle più importanti di Roma insieme a Piazza San Giovanni, a Piazza Venezia, Piazza San Pietro ovviamente ci sarà Laura Pausini, Emma Marrone, Alessandra Moroso, ci saranno Neck, via quel coso e tanti altri, Gianluca Grignani, Tiromancino, Moreno Donadoni, tantissimi di sopra vediamo il Pincio a più tardi con gli altri video e per concludere, mi ricordo anche che ho ancora qualche altro nome abbiamo detto Pausini, Emma Marrone, Alessandra Moroso, Dier Jack, Gigi D'Alessio conduce Alessia Marcuzzi e sarà data in televisione, su Canale 5 tra qualche settimana, qualche giorno, l'evento